Cosa fa muovere i mercati finanziari? Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo podcast. Sì, avete capito bene, sto dicendo podcast perché questo effettivamente sarebbe l'update settimanale che ormai da qualche settimana faccio, tutte le settimane lo pubblico tra sabato e domenica sul mio podcast, quindi è un contenuto inedito. Ho pensato questa settimana di farlo anche video, quindi lo troverete sia sul mio podcast che qua sul canale YouTube e sul canale Instagram. Quindi vi consiglio di seguirmi. In questo format che cosa vado a fare? Di solito vado a tracciare un po' quella che è stata la fotografare la settimana dal punto di vista economico, quindi le notizie più importanti e questa settimana di notizie importanti ce ne sono effettivamente state. Tassi di disoccupazione per gli Stati Uniti, disoccupazione in Italia e in Eurozone, abbiamo visto i numeri rimbalzare, quindi un segnale leggermente positivo ma numeri ancora ancora troppo alti e poi la DP Report per l'occupazione negli Stati Uniti, il non far payroll che hanno migliorato, sono stati migliorativi rispetto alle aspettative. Prodotto interlordo in UK con un pound che ha rallentato la sua forza nei confronti del dollaro, dollaro che sembra questa settimana aver mostrato un po' di muscoli e ne risente subito anche l'euro che ferma la sua accelerata verso l'alto. E poi ancora l'oro, l'oro ragazzi continua la sua salita, continua ad andare verso l'alto nonostante ci siano notizie effettivamente incongruenti, perché da una parte abbiamo S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Industrial e soprattutto il Dow Jones Transportation, e di questo transportation e di questo parleremo più avanti tra poco, che continuano ad andare verso l'alto, l'S&P 500 è a un passo dai massimi di febbraio, prima del crollo quindi per il Covid, per la pandemia, il Nasdaq invece ormai è andato verso le stelle, sta sopra gli 11.000 e soprattutto ragazzi il Nasdaq per il 45% viene mosso da 5 aziende, le 5 mega tech companies che tutti quanti conosciamo, inutile ripeterlo, Amazon, Google, Apple, Facebook, eccetera. Quindi nonostante i mercati azionali stiano andando verso l'alto, va verso l'alto anche l'oro e di solito dovrebbe succedere il contrario, quindi questa è la prima incongruenza. Seconda incongruenza, obbligazioni, i tassi di rendimenti sull'obbligazionario americano a 10 anni hanno raggiunto il minimo storico, siamo intorno allo 0,52-0,53%, mai toccato questo valore. Vi ricordo che la curva dei rendimenti va al contrario, cioè quando le obbligazioni vanno verso l'alto, vengono acquistate, va verso il basso il rendimento, quindi vuol dire che gli investitori stanno investendo in asset, perché evidentemente in asset più sicuri dove la loro visione è evidentemente incerta dell'economia e della finanza, però continuano a investire anche sull'azionario, è solo che lo stanno facendo ragazzi, ed è qui la verità, e l'andremo a snocciolare un po' negli appuntamenti della settimana prossima, Trading Today, 13.40, tutti i giorni in diretta, ragazzi ci accompagniamo nel viaggio quotidiano attraverso il mondo della finanza, dell'economia, per migliorare e affinare i nostri doti da trader e da investitori, quindi ne parleremo poi abbondantemente più in là. Quindi questa è un'incongruenza interessante, investitori che investono sia sull'azionario che continuano ad andare verso l'alto, anche se stanno investendo su poche aziende rispetto al paniere totale, e continuano ad investire sull'obbligazionario e sul loro beni rifugi. Anche Bitcoin continua ad andare bene perché continua a salire, siamo oltre gli 11.000, sarà una settimana decisiva per vedere se riuscirà a sfondare il muro dei 12.000 e portarsi tra i 12.000 e i 14.000 dollari. Quindi veramente interessante il recap di questa settimana, andiamo a vedere insieme la week in review, come la chiamo io, cioè facciamo una recensione di quello che è accaduto durante la settimana e che cosa e come e perché si sono mossi in un certo modo i mercati. Ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi al mio podcast, trovate i link qui sotto nella descrizione, ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao! Ciao! Ed eccoci qui alle notizie più importanti della settimana che si apre con il tavolo di discussione tra USA e Cina e infatti si fanno ancora più tese i rapporti tra le due nazioni perché Trump conferma la sua diffida, non solo, conferma il divieto, il ban che c'è stato su TikTok e su WeChat, rispettivamente TikTok è dell'azienda cinese ByteDance e WeChat è del mega conglomerato, la mega azienda Tencent, considerate che Tencent è la seconda azienda con maggiore capitalizzazione di mercato in Asia. E subentra Microsoft che sembra voglia, abbia ovviamente interessi di altra natura, ma sembra voglia un po' salvare la situazione e acquisire l'operatività di TikTok a livello americano, quindi negli Stati Uniti si occuperebbe Microsoft di così, diciamo, gestire i dati e il traffico di TikTok. Ci sono 45 giorni, adesso mi sembra che ci sia un primo checkpoint il 15 settembre e poi 45 giorni di tempo per concludere questo accordo. Staremo a vedere, ma Trump non è affatto positivo e sembrerebbe proprio voler tirar fuori i due colossi cinesi. Questa tensione tra America e Cina ci ha accompagnato un po' tutta quanta la settimana, ma ci sono anche notizie molto importanti. Lunedì infatti l'OPEC Plus ha dichiarato, parlando di petrolio e di produzione del petrolio, che ci troviamo in una situazione veramente delicata, perché il consumo del petrolio ancora non si alza, quindi rispetto alle aspettative che si avevano il consumo di petrolio rimane ancora basso e basti pensare a quello che sta succedendo alle compagnie aeree che vedono un calo drastico in questo periodo dell'anno, che di solito l'estate per loro è un periodo invece ottimo dal punto di vista delle revenue, quindi stanno volando meno aerei, si stanno spostando meno persone e il petrolio viene molto utilizzato in questo settore. Quindi l'OPEC dice di fare attenzione e di stare attenti perché, vedete qua, conclude con questa frase, there is a lot of uncertainty out there. Quindi questo vuol dire che è veramente difficile fare delle forecasting, cioè delle previsioni su quello che effettivamente può essere il futuro. E poi adesso andremo a vedere anche, anzi andremo a vedere subito che cosa fa il petrolio effettivamente in questa settimana e vi ricordate che il petrolio insomma sembrava potesse, aveva rotto quel triangolo ascendente che vi avevo segnalato qualche settimana fa, era riuscito ad arrivare sopra i 42 dollari ma poi il prezzo è tornato indietro. Abbiamo avuto questa settimana un'accelerazione quando purtroppo c'è stato, è brutto dirlo, ma a volte la finanza, diciamo, è piuttosto crudele c'è stata questa fiammata quando c'è stato quel problema in Libano, a Beirut, quella tragedia con l'esplosione. Bene, in quella giornata il petrolio ha avuto una fiammata al rialzo ma poi il prezzo è assolutamente rientrato e sto guardando in questo momento il future del petrolio il ticker CL, ragazzi di solito io lo guardo sul continuous che è il, diciamo, controllo i prezzi sulla scadenza corrente, quindi vedete che effettivamente nelle ultime settimane quello che notiamo è che le candele sono davvero davvero molto schiacciate, quindi già dalla settimana del 6 luglio, quindi parliamo ormai di un mese abbondante, vediamo candele dal corpo piccolissimo e sebbene è stato recuperato il gap di cui vi avevo parlato che era stato creato dalla candela forte ribassista del 2 marzo, quel gap è stato recuperato, quello che vediamo è che gli spike del petrolio non sono mai riusciti ad arrivare al di sopra dei 42 dollari, sono sempre stati respinti, quindi la settimana il dollaro la chiude a 41,94, dato positivo comunque la media a 7 periodi riesce a passare sopra alla media a 21 periodi, quindi insomma segnale tecnico di forza dell'impulso, interessante vedere che cosa succederà la settimana prossima. Nella settimana ragazzi, oltre al petrolio, quindi siamo nella giornata ancora di tra lunedì e martedì, cominciano ad uscire fuori i dati del PMI, quindi del manufatturiero, il Purchase Manufacturing Index, quindi sia PMI che NMI escono i dati in Italia, non solo in Italia ma per tutta l'Eurozone e quindi quello che vediamo è che c'è stato un bel rimbalzo, il dato infatti è passato, segnalato è a 51,9, considerate che è il maggior risultato degli ultimi 25 mesi e ovviamente questo dato fa fronte anche al lockdown che c'era stato, è un ottimo rimbalzo, vedete ci sono paesi tipo la Francia che fa 52,4, ma noi facciamo meglio della Germania che sta a 51 e addirittura dell'Olanda che sta a 47,9. Perché è importante essere sopra il valore 50? Perché il valore 50 di quest'indice fa da spartiacque tra il territorio definito di contrazione economica e il territorio invece definito come espansione economica, sopra i 50 si dice che siamo in una fase in cui l'economia sta espandendo. È uscito anche come vi dicevo prima il dato, qui lo vediamo dal sito ufficiale che è il sito di IHS Market, per chi ragazzi volesse andare a vedere dove prendere questi dati ho fatto proprio un video apposito in cui ho spiegato l'importanza del dato PMI e NMI che altro non è che il cosiddetto services PMI, cioè invece di tracciare i dati del settore manufatturiero traccia i dati del settore dei servizi, escono sul sito IHS Market, quindi andatevi a vedere quel video in cui trovate anche, condivido con voi i link. Quindi a livello Eurozone i dati, vedete c'è stato qua un bel rimbalzo dal grafico, lo vediamo, il rimbalzo che si è portato per i valori dell'Eurozone al di sopra dei 50, siamo a 51,8 come valore definitivo e quindi c'è stato un buon rimbalzo, ripeto consideriamo però che la strada è ancora lunga e soprattutto è ancora molto tortuosa, però sono questi dati importanti. Volevo passare anche all'oro e commentare un po' con voi l'oro e in particolare questo grafico che monitora i cosiddetto ETF flows, il grafico di come vengono mossi l'oro fisico, perché sapete che gli ETF sono backupati da oro fisico, alcuni ETF e quindi è sempre molto interessante andare a vedere l'oro che cosa fa, perché stiamo in una situazione molto particolare, ragazzi ne parleremo in settimana, nella settimana prossima voglio fare proprio un approfondimento per farvi capire come abbiamo in questo momento storico sull'oro delle notizie assolutamente contrastanti, che cosa intendo? Intendo dire che abbiamo l'S&P 500 che ha raggiunto il, diciamo così, dei massimi rispetto al timeframe mensile, abbiamo le obbligazioni americane a 10 anni che sono finite a un valore storico basso, quindi non si era mai visto un valore così basso per gli interessi, i rendimenti, parlo delle obbligazioni americane, siamo arrivati allo 0,53%, ci avviciniamo sempre di più allo 0, quindi ricordatevi che c'è questa correlazione inversa tra obbligazione e rendimento dell'obbligazione, se il rendimento dell'obbligazione scende vuol dire che si stanno comprando titoli di Stato, in questo caso a scadenza a 10 anni. Poi il Nasdaq, il Nasdaq continua a salire ma ci dobbiamo sempre rendere conto che il Nasdaq sale quando le aziende che lo rappresentano, le grandi aziende che lo rappresentano, le cosiddette top tech 5 companies, che sono Google, Microsoft, Netflix, Amazon e Apple, rappresentano il 45% dell'indice, pensate, quasi il 50% del movimento del Nasdaq è rappresentato da queste aziende, quindi considerate che rispetto al year to date, cioè all'inizio del 2020, il Nasdaq ha fatto un più 20%, e poi abbiamo il silver, quindi l'argento, che ha avuto la sua più grande performance mensile di sempre della storia del petrolio, ha fatto, sì del petrolio, del silver, scusate dell'argento, ha fatto il 34%, andiamolo a vedere, ve lo faccio vedere anche qui sul grafico per chi sta seguendo, perché oggi, come vi ho detto, abbiamo fatto questo video invece che solo sul podcast, l'ho reso disponibile come video anche su YouTube, quindi è stato un update, è un update un po' particolare, guardate, questo è stato il rally, considerate le ultime 4 candele, siamo su time frame settimanale, vedete che l'argento è passato praticamente dai 18 dollari a toccare i 30 come massimo e poi ha chiuso la settimana a 27 e 54, questo è stato il miglior mese per il silver della sua storia, non ha mai fatto un valore così alto, ma tornando all'oro, qui la domanda adesso che tutti si fanno è continuerà l'oro a salire o ci sarà un fisiologico ritracciamento? Spesso si discute di questo approfondimento, ragazzi vi voglio rilasciare in un video che faremo la settimana prossima, però voglio dire che i fondamentali dell'oro, spesso si discute espansione economica, contrazione economica e comportamento dell'oro, no? Cioè quando c'è rischio e incertezza, di solito questo rischio e incertezza sui mercati dà slancio all'oro che è considerato un bene rifugio, però in questo momento l'oro si sta espandendo, quindi sta andando verso l'alto nonostante i mercati stiano continuando il loro rally, quindi il loro trend rialzista, e quindi qualcosa di strano c'è, non solo, anche le obbligazioni stanno andando verso l'alto, sia quella a 10 anni che per esempio andare a vedere TLT che è l'obbligazione a 30 anni, anche quella sta andando verso l'anno, ok? Perciò considerate un'altra cosa, l'oro sta, in questo momento storico, sta risentendo tantissimo della parte della debolezza nell'uso dell'oro nel commercio, no? Con l'oro ci fanno i gioielli, ma c'è stato un grande danneggiamento nei confronti della domanda, soprattutto in Cina, di gioielli, di lingotti, di monete e anche tecnologica, perché l'oro viene in parte utilizzato anche nel settore tecnologico, e quindi si è ridotta di molto la domanda durante il Covid, però ha prevalso l'incertezza evidentemente economica e geopolitica che ha sostenuto l'oro dal punto di vista degli investimenti, quindi questo grande rally non è dovuto ad un aumento della domanda e ad una scarsità dell'offerta ragazzi, ma semplicemente a speculazione, a investimenti nell'oro. Ricordiamocelo, questo è importante, ma poi non vi preoccupate, ne andremo a parlare. Altro valore importante, altro dato importante è stato quello del GDP, cioè del prodotto interno lordo in UK, che guardate qui, praticamente fa peggio della Spagna, ah no, fa come la Spagna, Spagna chiude il dato del GDP, del prodotto interno lordo a meno 22,7, quindi una contrazione veramente importante, e UK fa lo stesso dato, meno 22,7. Nonostante questo valore, il pound, se andiamo a vederlo nei confronti delle principali valute, per esempio andiamo a vedere GBPUSD, quindi nei confronti del dollaro americano, il cosiddetto Cable, riesce comunque a chiudere la settimana, ha avuto un impulso rialzista, ma poi chiude leggermente al di sotto della grande candela che ha fatto con la settimana del 27 luglio. Considerate che l'impulso rialzista del pound nei confronti del dollaro era iniziato nella settimana del 29 giugno, quindi è andato verso l'alto e la settimana scorsa ci ha dato il primo valore di stop di questo rialzo, ma comunque rispetto a questi dati economici terribili ci si aspettava veramente una contrazione maggiore, che per esempio non c'è stata su euro GBP, quindi l'euro è stato nella settimana più forte del pound, quindi mentre il 27 luglio l'euro nei confronti del pound era sceso, era andato a toccare questa struttura a 89 e 74, sembrerebbe che ci abbia rimbalzato sopra questa struttura e la candela della settimana scorsa riesce a chiudere sopra alla chiusura della candela della settimana precedente. Quindi i dati sono stati estremamente negativi, però la finanza come spesso succede si è comportata in maniera diversa. E poi abbiamo avuto ragazzi il report dell'Ocse e anche dell'Istat sulla disoccupazione e occupazione in Italia e la situazione non è affatto, c'è stato un rimbalzo sicuramente, ve lo faccio vedere qua sul testo integrale pubblicato dall'Istat, c'è stato un rimbalzo ma questo rimbalzo non è sicuramente ancora positivo come ci si aspettava e probabilmente come dice lo stesso report dobbiamo aspettarci tempi davvero duri, non solo per l'Italia ma questo a livello europeo e a livello globale. Dal punto di vista del valore della disoccupazione siamo a, considerate che da febbraio 2020 il livello dell'occupazione è sceso di circa 600.000 unità e sono però diminuite anche le persone in cerca di lavoro, sono diminuite di 160.000 unità, quindi a fronte di un aumento degli inattivi di oltre 700.000 unità. Vedete che qua, questa è la linea dell'occupazione con la media mobile a 3 mesi, vedete che sta scendendo, il tasso di disoccupazione è salito ed è salito intorno, siamo qui sopra l'8, siamo sopra a giugno 2020 all'8,5-8,7% quindi ancora alto sicuramente però c'è stato un rimbalzo, ecco questo bisogna notarlo, vedete qua c'è stato questo rimbalzo, si è fermata la linea, non è un recupero a V ma ha fatto questa grossa inversione, staremo a vedere i dati successivi, sarà sicuramente importante. Sono usciti anche i dati ragazzi, sia della jobless claim in America, sia dell'unemployment rate americano e quindi ve lo andiamo a commentare, il jobless claim rispetto alle aspettative ha chiuso sotto, quindi il dato è stato positivo rispetto alle aspettative, ma siamo ancora molto molto alti. Qui abbiamo proprio sul sito dell'ADP che pubblica il National Unemployment Report, vedete che c'è stato un aumento dei salari, queste sono le buste paghe che vengono calcolate da questa azienda, 167.000 unità, vedete che in particolare le piccole aziende hanno assunto, 63.000 unità e le grandi aziende, quelle con più di 500 employees, cioè dipendenti, 129.000 unità, mentre il reparto mid-size, quelle che hanno dipendenti, aziende che hanno dipendenti tra i 50 e i 500, fa un meno 25.000 unità. Quindi diciamo il dato è positivo ma ancora sopra, abbondantemente sopra al milione. Le jobless claim infatti che sono state pubblicate, sono state pubblicate, aspettate ve lo faccio jobless claims, ve lo faccio vedere al volo. Stiamo sul milione, eccolo qui, sul milione, no questo non è giulai, fatemi vedere agosto, perché questo era luglio e a luglio vi ricordate, l'abbiamo commentato insieme era circa 1.434.000 unità, invece dal punto di vista delle, eccolo qua, due giorni fa, siamo a 1.186.000, quindi ancora abbondantemente sopra al milione. Le jobless claims ragazzi sono le richieste alla disoccupazione, ok? E poi è uscito venerdì il tasso di disoccupazione americana che è stato comunque andato al di sotto delle aspettative, quindi buono da questo punto di vista, ma comunque parliamo di un dato, adesso vi faccio vedere il numero che è uscito, eccolo qua, l'unemployment rate 10,2%, le aspettative erano a 10,5%, il mese precedente era il dato, il tasso di disoccupazione era 11,1%. Insomma ragazzi, è stata una settimana importante e nonostante questi dati negativi che vi sto leggendo, se andiamo a vedere quello che è successo sul mercato, vediamo che c'è stato S&P 500 e è riuscito a fare questo candelone estremamente alto e si porta sempre più vicino ai massimi di febbraio, quelli prima del crollo, vedete ormai manca veramente un soffio. Il Nasdaq continua ad andare verso l'alto e riesce a chiudere sopra i massimi delle candele del 13 luglio, quindi vedete che chiude abbondantemente sopra, guardate il prezzo come usa la media veloce a 7 periodi come rimbalzo e volevo farvi vedere un dato, secondo me importantissimo, almeno per le analisi che faccio io, il transportation, quante volte vi dico che è importante vedere il Dow Jones Transportation come indice in relazione al Dow Jones Industrial, guardate qua che candelone verde, che esplosione che c'è stato con la candela della settimana scorsa che si era messa, aveva chiuso sopra la media a 200 periodi e la settimana fa una candela enorme e che rompe i massimi di maggio e si porta veramente vicino al precrollo, prima del crollo di febbraio. Ogni volta che abbiamo un transportation forte e anche un industrial, Dow Jones Industrial che è forte, ed effettivamente è questo il caso, vedete entrambi sono saliti, addirittura e transportation di più dell'industrial, questi sono segnali positivi, è più probabile dal punto di vista fondamentale che continui ad andare verso l'alto i mercati. Quindi andiamo a vedere anche piazza affari, il Fusimib vedete che riesce ad andare, fa questa candela al rialzo, sembra essere riuscito a rimbalzare rispetto al 27 luglio, il DAX anche, vedete si va a rimangiare quasi tutta la candela del 27 luglio settimanale che rimbalza sulla media a 8 periodi, si riporta sopra e torna vicino a questo valore, vicino ai 13.000, soglia anche psicologica, vedremo se la settimana prossima riuscirà ad andare sopra a questi valori. Concludiamo con Eurodollaro per vedere che Eurodollaro sembra proprio essersi adesso fermato, ci sta perché ha completato questo ABCD pattern, arriva qui sopra e fa questo grande spike con questa candela che è una doji, quindi candela di indecisione, potrebbe questo essere l'inizio di un ritracciamento soprattutto se il dollaro mostra i muscoli, perché guardate che cosa ha fatto la settimana scorsa il dollaro, vedete che ha fatto questa candela che è stata una candela di grande indecisione, una doji, che interrompe però questo ciclo a ribasso che ormai per il dollaro continuava da, non da aprile, anzi da marzo, eccolo qui, lo vediamo sul grafico. Chiudo con Bitcoin, ragazzi, BTC USD, perché fa un bel valore Bitcoin, andiamocelo a vedere su Bitstamp, eccolo qua, vedete Bitcoin continua la sua cavalcata al rialzo dopo aver rotto questo canale all'interno del quale ci stava da aprile, l'aveva rotto con la candela di luglio e continua al rialzo, non riesce ancora a superare i 12.000 dollari, siamo a 11.658 adesso nel weekend e sarà molto interessante vedere se la settimana prossima sarà quella dove il prezzo si riporterà in un'area di attenzione che vi avevo io segnalato, dove voglio vedere il prezzo che va dai 12.000 ai 14.000, voglio vedere il prezzo di Bitcoin qui dentro. Bene ragazzi, direi che per questo update è tutto, vi ricordo come al solito questi weekly update noi ce li abbiamo sul podcast, cosa fa muovere i mercati e cosa è successo durante la settimana dal punto di vista delle notizie e dal punto di vista finanziario, quindi analizziamo economia e finanza e le mettiamo insieme per vedere come si comportano entrambe, ce li abbiamo tutte le settimane sul podcast, quindi mi potete seguire, trovate qui nel campo descrizione i link per seguirmi nel podcast, noi ci vediamo agli appuntamenti in diretta settimana prossima e Trading Today tutti i giorni alle 13.40 in diretta e ovviamente sui miei canali Twitter, Instagram, TikTok e Facebook. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!